Nome? Paolo. Benedetta. Corso di laurea. Socorso di laurea magistrale in amministrazione finanza aziendale e control. Faccio amministrazioni pubbliche e imprese internazionali. Età? 22. 22. Dove siete andati in exchange? A Londra. A Dublina. Il nome della vostra università? Queen Mary University of London. University College of Dublin. La tua esperienza in una parola? Fantastica. Inaspettata. Quanto hai studiato da 1 a 10? 7 e mezzo. 4. Quanti esami hai dato? 4. 4. Quanti esami hai convertito? 4. 3. Com'erano gli altri studenti exchange? No, no, molto simpatici, friendly, molto multiculturali, cioè molti indiani, malesiani, pakistani. Allora c'erano principalmente italiani e spagnoli che erano pazzi, festaioli, sempre ubriachi. Poi c'era qualche francese, qualche tedesco e pochissimi americani e quindi principalmente eravamo noi e spagnoli. Cosa ti manca di più? Un po' più il clima molto multiculturale, forse la viva città, anche il fatto di vivere in una città estera è molto eccitante. Il fatto che la sera c'erano questi pub dove c'era sempre musica dal vivo, quindi c'erano delle band che suonavano e cantavano musica contemporanea, quindi era come andare a un concerto tutte le sere. Differenze con la Bocconi? Qui ci sono molte, in Bocconi ci sono molte lezioni frontali, fatte lì solo nove ore di lezione alla settimana, lo studio è molto spostato a casa, sono soprattutto i sei, quindi molto frazionato l'esame, il presentation. Allora c'erano due ore di lezioni per ogni materia, quindi pochissime alla settimana e poi l'università è come un college americano, quindi ci sono tutte le facoltà, è un'università grandissima, con il campo da calcio, la piscina eccetera, quindi era proprio diversa la concezione di università. Costo della vita? Molto alto, Londra è forse la città più cara d'Europa. Simile a Milano, tranne che per alcune cose, per esempio i mezzi di trasporto, perché costava 82 euro l'abbonamento per 30 giorni per i mezzi pubblici. Come hai trovato casa? Grazie ad un'amica che si era appena laureata, sempre alla Queen Mary però in corso di giornalismo. È una ragazza della Bocconi, è nata su a Dublino d'estate e con i suoi genitori ha cercato la casa. Hai cucato? No. Sì. Piatto tipico? Beach and chips ma non l'ho mangiato. Ah dunque l'ho stufato, cotto nella Guinness con le patate che c'erano in tutti i piatti. Una serata tipo? Di solito tornavo a casa dopo le lezioni e chiamavo qualche amico, soprattutto che è un amico che già conoscevo, che abitava vicino a casa mia, ha visto aprire una birra. Ah di solito c'era il pre-serata a casa di qualcuno, cioè o in un college o a casa in centro, poi si usciva, si andava in un pub, quindi si beveva un po' di birra eccetera, poi si andava a ballare e poi di solito quando si usciva andavamo da Burger King o da McDonald's a mangiare il panino. Convinci chi non sarebbe mai voluto andare? Io consiglio tutti di andare perché comunque ti apre la mente, conosci un mondo diverso, quindi ti forma davvero tantissimo e ti arricchisce culturalmente. Sì, penso che sia un'esperienza che ti rende più responsabile però ti fa anche divertire perché provi anche ad uscire con gente che non è della tua città e non è della tua cultura e quindi questo è sicuramente divertente. Capivano che eri italiano? Sì, sì. Sì, più che altro dà come gesticolavo quando parlavo. Lo rifaresti? Lo rifarei sicuramente. Sì, subito. Come ti ha cambiato? Mi ha aperto la mente, soprattutto nuove esperienze che diciamo il nostro bagaglio culturale può essere molto diverso, anche di esperienze, un nuovo modo di vedere le cose. Mi ha fatto conoscere persone veramente da tutto il mondo, questo sicuramente mi ha aperto la mente e mi ha fatto provare delle esperienze nuove. Quanto hai viaggiato? Poco, sono rimasto sempre a Londra. Io poco in realtà ho visitato più che altro delle cittadine intorno a Dublino e poi sono andata a Belfast che è nell'Irland del Nord per un weekend. Il posto più bello che hai visto? Tutti i parchi di Londra. Allora c'è un posto vicino a Dublino a un'ora di autobus che si chiama Oat dove ci sono queste scogliere a picco sul mare e in fondo a questa scogliere c'era questa spiaggetta in cui si doveva arrivare per questo sentierino e quindi siamo andati lì e tra l'altro come faceva caldo siamo anche entrati per un pezzo in acqua e quindi è stato un posto bellissimo. Una cosa che non ti saresti mai aspettato? Non mi sarei mai aspettato sicuramente il clima dell'università. Che si potessero fare così tante cose diverse con l'università. L'esperienza che ti ha arricchito di più? Globalmente tutto, tutta l'esperienza dell'exchange. Penso alle prime lezioni in università perché alla fine c'erano anche altri italiani ma in classe con me nessuno. Cosa pensano degli italiani all'estero? Hanno sempre questo stereotipo di pasta, pizza, caffè. Quasi tutti hanno una buona impressione di una buona reputazione. Più che altro che siamo molto passionali e molto fisici. Per esempio io avevo questa compagna cinese del lavoro di gruppo e all'inizio io quando la vedevo la abbracciavo e all'inizio era rimasta abbastanza scioccata da questa cosa. Un luogo comune da sfatare? Da sfatare non mi viene in mente nulla. Da confermare che a Londra piove quasi sempre e che gli inglesi escono sempre con l'ombrello e che bevono da morire. Già dalle tre del pomeriggio bevono birra. Che Dublina è una città abbastanza morta essendo piccola rispetto ad altre città europee però non è vero perché è piena di studenti da tutto il mondo e quindi ci sono sempre serate, locali aperti e comunque gente in giro a tutte le ore. Quindi è una città assolutamente viva e piena di cose da fare. Ci torneresti a vivere? Sicuramente. Sì perché una cosa bellissima è che io mi svegliavo col suono degli zocari dei cavalli. Un consiglio a chi è in partenza? Un consiglio soprattutto preparati bene, cioè stai tranquillo perché comunque andrà tutto bene. Ma io direi di non chiudersi in casa a studiare perché alla fine gli esami sono fattibili, i professori sono disponibili quindi più che altro cercare di vivere l'esperienza al massimo quindi uscire, fare più attività possibili, conoscere i compagni di classe e quindi vivere la città e la vita della città. Bentornati in Italia. Forse era meglio stare lì. Quando è che ripartiamo?